Il cocktail Alexander è un classico cocktail internazionale a base di gin, liquore white creme de cacao e panna fresca. Per preparare questo delizioso drink, riempi uno shaker con ghiaccio e aggiungi uno mezzo once di gin, un mezzo oncia di liquore white creme de cacao e un'oncia di panna fresca. Agita energicamente per amalgamare gli ingredienti e raffreddare il composto. Filtra il cocktail in una coppetta da cocktail precedentemente raffreddata e guarnisci con una leggera spolverata di noce moscata. Il risultato sarà un cocktail cremoso e avvolgente, dal gusto equilibrato tra dolce e alcolico. Da gustare come dessert liquido dopo cena o come aperitivo raffinato in occasioni speciali. Il Bellini è un famoso cocktail internazionale composto da succo di pesca bianca e prosecco. La sua ricetta ufficiale prevede l'utilizzo di due parti di succo di pesca e una parte di prosecco. Per preparare il Bellini bisogna versare il succo di pesca bianca in un bicchiere da flute e aggiungere lentamente il prosecco. Si consiglia di mescolare delicatamente per evitare di far perdere le bollicine al prosecco. Il Bellini viene servito freddo e decorato con una fettina di pesca o una ciliegina. Questo cocktail è ideale da gustare durante l'aperitivo o come drink rinfrescante durante le giornate estive. La sua origine risale al 1948 quando fu creato presso il celebre Riesse Bar a Venezia. Da allora il Bellini è diventato un simbolo della cucina italiana e un cocktail apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore fresco e fruttato.